Buonasera, benvenuti tutti alla prima di queste presentazioni virtuali della mostra che abbiamo organizzato Maggiolini & Co. Vuole essere una mostra che presenta la produzione, chiaramente una piccola parte con una rappresentanza di mobili della produzione di Maggiolini agli inizi dell'Ottocento, della sua bottega, e una presentazione allegata di alcune opere di alcuni dei suoi allievi e contemporanei che hanno utilizzato il suo stile dell'intarsio all'interno di un gusto neoclassico nella produzione ancora fine settecentesca e ottocentesca, superando un po' quello che era lo schema di gusto ornamentale che l'epoca impero-napoleonica imponeva un po' a tutte le realtà di produzione non solo nazionale ma a livello europeo. Vediamo un attimino, allora noi sappiamo benissimo tutti che la produzione principale, la più importante, più famosa di Maggiolini è la produzione della fine del Settecento, anche se lui produce, opera anche in epoca Rococodi, è il livello chiaramente molto eccellente, però è in epoca Ferdinandea che Giuseppe Maggiolini dà il meglio di sé grazie soprattutto alla collaborazione, la possibilità di lavorare a stretto contatto con alcuni architetti che lavoravano ai cantieri arciducali a Milano, quello che è oggi Palazzo Reale o appura anche al Palazzo Reale di Monza, a stretto contatto ripeto con queste persone come Giocondo Albertolli ma ancora prima Agostino Gerli e tra l'altro anche la possibilità di avere l'appoggio e l'aiuto, l'assistenza di alcuni pittori dell'epoca che furono poi pittori eccellenti, quale Levati piuttosto che Lappiani. In quell'epoca riesce a creare con il loro aiuto delle produzioni di altissimo livello, si pensi ad esempio al caso famoso elencato nelle cronache dell'epoca in cui alla fine della produzione della commode Serra per il Marchese Serra di Genova, questo a indicare anche la fama che aveva al di fuori di Milano Maggiolini, quel commode che viene prodotto è talmente bello, talmente ricco che la comunità cittadina decide di esporlo all'interno del cortile del Palazzo Borromeo perché i cittadini di Milano potessero andare a vederlo. In un certo senso viene elevato ad artista questo produttore che in realtà è un ebanista che attende ad una bottega ben organizzata e corposa che in quegli anni segue non solo la produzione di mobili, di mobili importanti, i doni che l'Arceduca fa alla madre piuttosto che ad altri parenti in tutta Italia, ma attende anche la produzione delle pavimenti, degli intarsi, dei parquet e quindi una bottega molto organizzata che è abituata a produrre parecchio. In una sua lettera che viene, che manda alla società patriottica in quegli anni, lui scrive e parla di una ventina di allievi che nella sua bottega si formano alla pratica dell'intarsi e poi vedremo nei prossimi giorni alcuni di questi allievi. Cosa succede? Quando l'Arceduca è costretto ad andarsene da Milano con le invasioni napoleoniche ci sono una serie di anni in cui la bottega non ha più gli incarichi importanti e nobili che aveva avuto fino a quel tempo. Gli inizia a ripartire fondamentalmente con qualche commessa un po' più interessante agli inizi dell'Ottocento, quando con la preparazione per l'incoronazione di Napoleone, quale re d'Italia, Melzi dei Rili inizia a richiedere a Maggiolini la realizzazione di alcuni arredi per riarredare e rimpostare l'arredamento di Palazzo Reale. È anche una commessa numerosa, vengono ordinati centinaio di tavolini da gioco ad esempio. Quindi la bottega si riorganizza, riorganizza una produzione molto raffinata e accurata, ma che inizia a diventare in parte ripetitiva, perché appunto viene prodotta una grossa quantità di mobili e cambia, modifica un attimino quello che era il gusto albertogliano, quello che era il gusto dell'epoca dei lumini milanesi, dove la partitura, la composizione di disegno era molto complessa e quindi avevamo delle mandorle, degli esagoni, dei triangoli, tutti pieni e rimpiti e arricchiti da intarsio. All'inizio dell'Ottocento, come possiamo vedere ad esempio su questi mobili, si svuotano un po' le superfici di quella ricchezza di cornice e di intarsi, gli intarsi principali vengono centralizzati all'interno della parte centrale degli spazi e vediamo questo bellissimo motivo all'interno della facciata oppure sul piano, come in questi comò, e si concentrano nella parte centrale. Questo perché il gusto impero aveva tolto quella che era l'arricchimento degli intarsi dai mobili. Nel gusto francese era prevalente la presenza del mogano, in Italia a Milano Maggiolini utilizzerà legni esotici, anche il mogano, ad esempio per i due famosi comò che produce per Napoleone, ma utilizza anche, soprattutto laddove la committenza non poteva permettersi di pagare i costi di legni esotici, utilizza moltissimo, come vediamo in questi mobili, l'uso di noce molto venato e altri legni anche proprio italiani e che ritrovava nella nostra terra. In questo caso vi presento questo gruppo di arredi, come vedete due comò e un comodino. La produzione, la qualità dell'intarsio è sempre altissima, le tessere sono sposate con una precisione particolare e direi singolare, solo la sua bottega riesce a produrre e realizzare una qualità di questo tipo nell'ambito lombardo. La disposizione ci presenta una disposizione che è sapiente di quello che è l'esperienza e quindi a livello architettonico ci sono alcuni dettagli all'interno di questi arredi e una composizione che rende armonici chiaramente le realizzazioni e i risultati finali. Come vi dicevo, abbiamo raccolto qui una coppia di comodini, un comò e questo gruppo, che hanno tutti la caratteristica di avere dei disegni che all'interno di quella che è la raccolta dei disegni di Maggiolini sono tutti databili intorno ai primi anni dell'Ottocento. Voi sapete, per chi non lo sa, lo racconto un attimino, che è la fortunata vicenda della bottega di Maggiolini che si chiude nel 1834 con la morte del figlio. Cosa succede? Che a quell'epoca tutta la collezione di disegni, la raccolta di disegni, almeno una grossa parte, 2000 disegni, viene data in eredità grazie a Cherubino Mezzanzanica, che era il figlio dotato di Carlo Francesco Maggiolini, viene poi venduta e arriva a Milano nella Fondazione Bertarelli e oggi è conservata al Castello Sforzesco di Milano. Quindi noi abbiamo a disposizione circa 2000 disegni che ci permettono di riconoscere la produzione e talvolta, come in questo caso, di avere alcune indicazioni aggiuntive sulla committenza o su quella che si può supporre essere la committenza dei mobili. In questo caso, sui disegni che abbiamo presentato poi in mostra, che si potranno vedere anche sul sito perché metteremo le foto, abbiamo una serie di disegni che indicano la produzione di questi mobili dove c'è un riferimento chiaro e preciso ad una commessa fatta per i bianchi Dadda nel 1804. Ed è curioso perché nella gran parte di questi disegni viene proprio indicato per il fianco dello sciffone, che sarebbe il comodino in dialetto milanese, per il fianco del sciffone piuttosto che per il piano e quindi la cosa interessante e curiosa di questa raccolta di disegni è quella che ci permette di approfondire, di arrivare a meno di ipotizzare con una certa certezza quella che era la committenza di origine della produzione di questi arredi. La fortuna della bottega di Maggiolini proseguì anche dopo la morte di Giuseppe, grazie al lavoro del figlio Carlo Francesco che ereditò il mestiere del padre e del nipote adottivo Cherubino Mezzanzanica. La fortuna della produzione post Giuseppe Maggiolini della nuova generazione maggioriniana è dovuta grazie al permanere all'interno della bottega dei disegni utilizzati dallo stesso Giuseppe come modello per gli intarsi realizzati all'interno della sua bottega. La produzione sotto Carlo Francesco e Cherubino Mezzanzanica infatti proseguì fino al 1834 con la morte di Carlo Francesco e i disegni nel 1882 furono venduti e fortunatamente furono acquistati dal comune di Milano e tutt'oggi sono presso le collezioni civiche. Un esempio di questa produzione di Carlo Francesco Maggiolini è questo Secreterre. Infatti l'intarsio mostra dei riscontri puntuali con alcuni dei disegni che sono conservati presso il fondo Maggiolini. In particolar modo dei riscontri sono possibili per l'intarsio che orna la greca nella fascia sottopiano ma anche sono presenti dei disegni che ripropongono l'intarsio che invece è presente sulle candelabre. Anche l'intarsio al centro dell'anta, in particolar modo le specie floreali che sono qui rappresentate sono riproposte in vari disegni, in vari studi, sempre riscontrabili che si possono ritrovare all'interno dei disegni del fondo Maggiolini. Quindi questo intarsio mostra delle forti influenze, un richiamo con quella che è la produzione soprattutto dell'inizio del XIX secolo, ma mostra già un gusto avanzato. Infatti rispetto ai mobili realizzati da Giuseppe Maggiolini si nota soprattutto nell'intarsio dell'anta un gusto più tardo, quasi come se questo vaso di fiori fluttuasse un po' al centro dell'anta. Ovviamente l'intarsio, da solo i riscontri col disegno di Maggiolini, non bastano per giustificare l'attribuzione di questo secretaire a Carlo Francesco, ma anche l'architettura del mobile stesso e la parte costruttiva, l'alta qualità con la quale è stato realizzato questo mobile, ci confermano che invece appartiene alla fortunata bottega. L'architettura del mobile infatti è sì più tarda, databile nella seconda metà del secondo decennio del secolo, quindi palesa già un gusto tardo impero, ma presenta al suo interno dei meccanismi a molla e dei segreti che trovano invece riscontro con quella che è la produzione maggioliniana di Giuseppe. Ben ritrovati, in questo secondo video vogliamo presentarvi un'altra personalità attiva, un altro ebanista attivo nel panorama nella Milano tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Parliamo di Giuseppe Colombo, detto il mortarino, che collocandolo nel suo rapporto con Maggiolini lo consideriamo un contemporaneo, quindi non un suo allievo, ma un ebanista che ha una propria bottega e che è attivo in modo indipendente. Questo artista è conosciuto da un'epoca relativamente recente, infatti è dalla fine degli anni Ottanta, quando sul mercato antiquario compare una commode firmata Giuseppe Colombo, detto il mortarino, datata 1774, che ci ha consentito di conoscere quest'artista e di capire la produzione da lui licenziata. Negli anni 70, infatti, il mortarino produce dei mobili che dimostrano ancora un gusto pienamente rococco, ad un'altezza cronologica nella quale invece Maggiolini inizia già ad aprirsi verso quello che è il gusto neoclassico che va affermandosi e diffondendosi sempre più. In realtà questa affermazione è leggermente da correggere perché sempre agli anni 70 è databile un mobile molto particolare, sia per la tipologia, perché è un inginocchiatoio che è firmato comunque dal mortarino e che mostra in questo caso un'apertura nei confronti invece dell'arte neoclassica. Anche l'utilizzo dei legni sono riconducibili ed identificabili a quella tavolozza cromatica tipica del mortarino, che pur non essendo molto vasta è ben riconoscibile. Abbiamo qui un mobile molto interessante, attribuibile a mortarino, questo mobile a ribalta, interessante per la committenza. Infatti al centro dell'anta è intarsiato lo stemma dei Belgioioso, queste panoplie militari. In ricordo quello che è lo stemma familiare a un fortunato episodio al conferimento di questo onore, di questo stemma da parte papale nel XIV secolo per la vittoria sui bretoni, battaglia alla quale i Belgioioso avevano contribuito, ma in particolar modo la Croce di Malta, che non è più intarsiata con legni ma in avorio, è invece riconducibile a Ludovico Luigi Maria Barbiano di Belgioioso. La Croce infatti fa riferimento al cavalierato di Malta, che era un titolo ottenuto proprio dallo stesso Belgioioso, quindi uno stemma che vuole dimostrare e ribadire quelli che sono anche gli interessi militari, la forza militare della famiglia stessa. Le panoplie militari sono anche molto interessanti perché ci consentono il confronto con due mobili certi firmati dal mortarino. Mi riferisco alle due comode di Palazzo Cabriani a Mantova, che sono appunto due mobili cui i cassetti presentano un motivo ad intarsio molto simile al nostro e che ci consentono, ci hanno consentito di avanzare questa fortunata attribuzione. Anche l'utilizzo dei legni, questo è un mobile impiallacciato in noce con le riserve in bois de rose, all'interno delle quali sono intarsiati queste girali fogliace, queste volute fitomorse, ci consentono dei confronti con delle altre opere, consentono di avvicinare la nostra ribalta, in particolar modo ad un tavolino, a uno scrittoio firmato dallo stesso mortarino che mostra appunto delle vicinanze con la nostra. Bene, ben ritrovati a tutti. Anche adesso facciamo un altro paragone con un altro contemporaneo di Maggiolini, controverso questo tavolino. Si tratta dei fratelli Cassina, non ci sono informazioni che siano stati allievi, quanto invece siamo certi che siano stati dei contemporanei, in quanto esiste un mobile pubblicato a Clelia Albrici del 1779, se non vado a errare, firmato dal Francesco, uno dei due fratelli, che dice il Francesco detto il Volpino, nello scritto mette anche il proprio soprannome. Si tratta di un mobile rococò, anche in quel caso quindi legato ad un gusto barocchetto tipico italiano, lombardo, di grandissima qualità, un po' come la storia di Mortarino, e che fa capire che la bottega è attiva ed è una bottega capace. La bottega si firma sia a Meda in quel caso, che nel caso di questo tavolino a Milano. Di fatti in uno degli scomparti del cassetto frontale c'è la firma dei fratelli Cassina nel 1796 a gennaio fecero in Milano, quindi evidentemente sono anche falegnami in Milano nell'epoca Ferdinandea, almeno fino alla fine, perché appunto è firmato 1796. La qualità di questo mobile è altissima, abbiamo un grandissimo gusto nell'alternare in filettature diverse la disposizione di questa boade violetta sul mobile, con queste riserve molto scure e gli intarsi molto chiari in legno di bosso, quindi una scelta cromatica elaborata proprio per questo gioco complesso anche di filettature. Abbiamo senz'altro anche un gusto architettonico e di disegno del mobile particolarmente avanzato e capace, che potrebbe anche far supporre che in realtà non sia una produzione della semplice bottega dove i due falegnami inventano questo orredo, ma che ci possa essere in realtà una progettualità e un aiuto, almeno una collaborazione con un architetto o con un ornatista dell'epoca. Questo perché, come vedete, è molto insolita e particolare la realizzazione della gamba con questo collare molto stretto, tutto decorato con grande attenzione architettonica, questo grosso dado con i rosoni, con queste mensole d'appoggio per quelle che sono poi le tre azioni architettoniche che poggiano su queste due gambe. Il gusto anche della cura di tutti i particolari di movimentazione, cassetti che sono messi su tutte e tra i lati e che sono ricchi all'interno di scomparti e di segreti, che permettono ad accessi i divani particolari e nascosti che vanno poi ritrovati all'interno del mobile. Sulla parte decorativa c'è una grandissima attenzione a quello che è il gusto dell'epoca, cioè è evidente che questi ebanisti stanno guardando con particolare attenzione a quella che è la produzione di Albertolli in quegli anni e a quella che è la produzione e la realizzazione per le sale degli appartamenti reali all'epoca arciducali del palazzo arciducale dell'epoca che oggi è Palazzo Reale di Milano. Questo perché se noi guardiamo ad esempio l'elaborazione di intarsio del piano con questa disposizione, con questi grossi ottagoni, con dei rosoni interni, vediamo facilmente, ci riconduce facilmente a quella che è la realizzazione a stucco dei soffitti di alcune delle sale e che all'interno dei disegni che Albertolli licenzia per l'Accademia di Brera sono riscontrabili e ben visibili. Quindi possiamo parlare di una bottega di contemporanei che per la qualità che possiamo intravedere all'interno di questo arredo possono abbastanza competere con le produzioni più elevate e più importanti di Giuseppe Maggiolini, sia come capacità tecnica, l'intarsio ha le tessere molto avvicinate, non si vedono facilmente delle giunture, che per la parte invece di costruzione ideale e architettonica dell'arredo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione di questo video e alla prossima opportunità. Ben ritrovati con questa nuova presentazione video. In questo momento vi presentiamo una produzione, in particolar modo un arredo di Giovanni Battista Moroni. Si tratta di un emanista che in realtà si firma nella maggior parte dei casi come GBM, con un suo monogramma fondamentalmente. Ed è stato grazie alla scoperta di una suite che aveva due comò, dove uno era firmato completamente Giovanni Battista Moroni e l'altro GBM, che ha permesso di sciogliere il dubbio su chi fosse questo emanista. Sono diversi i mobili della sua produzione attribuiti e firmati, sia elencati e ben descritti all'interno dei loro volumi, da Alvar González Palacios, che è il primo che parla approfonditamente di questo emanista, che è da Giuseppe Beretti, che ha fatto questo saggio sui mobili realizzati da lui a Giaccio per la casa di Bonaparte, che è molto interessante, che ha anche delle vicende molto vicine connesse a questo arredo che stiamo vedendo. Questo è un mobile di grandissima qualità per questo emanista che è considerato uno degli allievi di Maggiolini, il quale però in realtà appartiene ad una bottega che ha una tradizione emanista più antica. Il padre ha già la bottega, Giovanni Battista eredita questa bottega, che lascerà poi anche i figli. Lui però ha un periodo di formazione, come anche Maffezoli, considerato certo ormai da parte di tutti gli studiosi nella bottega di Maggiolini. Ne desume la capacità tecnica, ne porta in bottega anche alcuni disegni, che su alcuni mobili sono stati ritrovati, che sono disegni riferibili alla bottega. Non sono trasposizioni puntuali, ma derivate da quelli che sono i disegni della bottega Maggiolini, che apparentemente non sono in realtà mai usciti dalla bottega. In questo caso il mobile ha un disegno architettonico, sia di disegno proprio con queste grandi colonne, con questi piedi, con i gocciolatoi. Anche sul fianco abbiamo disegnate delle colonne architettoniche, una trabeazione con greca, ma anche la disposizione della partitura del fronte è una partitura molto complessa, ancora di gusto molto Luigi XVI, dove vediamo delle riserve, delle piccole mandorle, tutte riempite e arricchite da intarsi. È evidentemente una realizzazione che deve essere stata pensata e realizzata da un architetto, anche perché sappiamo che a parte alcuni casi, tipo i mobili di Agiaccio e questo caso in particolare, Giovanni Battista Maroni in realtà ha una platea di committenti, di persone che ingaggiano la bottega, che richiede una produzione molto più corrente e molto più povera. Abbiamo diversi mobili firmati da lui, anche alcuni presenti qui in mostra, che in realtà denunciano una capacità di esecuzione ricca, veloce, ma di qualità molto più corrente, che permetteva di costare evidentemente meno. In questo caso è evidente che c'è una presenza di un architetto che aiuta l'ebanista nella realizzazione dell'arredo. Realizzazione dell'arredo che in realtà lui firma, qui in basso al centro del cassetto, come GBM inventò, disegnò e fece. Quindi in realtà lui si prende il merito sia dell'invenzione che del disegno e della realizzazione dell'arredo. In un'analisi attenta in realtà noi scopriamo che questa greca è una greca disegnata da Giocondo Albertogli, come anche queste complesse raffigurazioni a candelabra con questi vasi e questi grifoni, sono sempre realizzazioni da disegni di Giocondo Albertogli. La realizzazione, come dicevo, fa pensare ad un architetto e l'ipotesi più attendibile è che il Giovan Battista Maroni, in bottega quando allievo con Giuseppe Maggiolini, entra in contatto con Agostino Gerli e, come per i mobili da Iaccio ipotizza Giuseppe Beretti, anche in questo caso ci sia una collaborazione stretta fra l'ornatista, quindi Gerli, e Giovan Battista Maroni. Questa cosa è anche in parte sostenuta dalla presenza di questo piano stupendo, che è l'astronato con materiale, un alabastro in questo caso fiorito molto bello e molto raro, che è evidentemente materiale di scavo romano. Noi sappiamo, da documentazioni, da ricerche che sono state fatte, che Agostino Gerli intesseva rapporti commerciali con Roma e anche per i mobili realizzati per buona parte ci sono inserti in materiali di marmi antichi e di scavo. Quindi noi ci troviamo di fronte a un ebanista che quando è supportato da una situazione come in questo caso, cioè quindi da un architetto e da un disegnatore, riesce a realizzare delle opere, perché potremmo definire le opere, in questo caso abbastanza unico, di eccellente qualità. Aggiungo un particolare, relativo a questo mobile curioso ma interessante, è un mobile talmente singolare, talmente ricco e di fascino che è considerato fin dall'Ottocento in realtà un mobile di grande gusto internazionale. Tanto vero che finisce nelle sue vicende storiche a Londra presso una di quelli che sono le botteghe dei più grossi antiquari dell'epoca di Londra, che sono Williamson, Son & Guildford e stampigliano sul cassetto la loro stampiglia di proprietà. Quindi è un mobile che in realtà dalla fine, dagli inizi dell'Ottocento, perché è datato a 1804, si sposta dall'Italia all'Inghilterra e torna poi in Italia e noi abbiamo la fortuna, quest'oggi, di presentarlo a tutti voi. Spero di avervi fatto vedere qualcosa di bello, vi ringrazio e vi saluto per il prossimo appuntamento. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati, per la presentazione di questo scrittoio che è il pretesto per presentare un altro personaggio che viene ipotizzato essere stato uno degli allievi di Giuseppe Maggiolini. Il primo anche in questo caso a parlare di questo ebanista è Alvar González Palacios, che descrive, utilizzando la scoperta soprattutto di un segretero oggi conservato a Palazzo Bianco a Genova, che è un segretero il cui Anta Centrale presenta un disegno, che è lo stesso speculare rappresentato sul piano in questione, di questo bacco, piccolo bacco, trainato da cavalli con un fauno e via dicendo. In questo disegno il segretero rega la firma di Antonio Mascarone in Cesano 1802. È un ebanista quindi di Cesano, periferia di Milano, per capirci, che realizza in quegli anni questo tipo di segretero con lo stesso disegno che ritroviamo su questo tavolo. Un altro tavolo con la stessa firma, datato invece 1804, è uno scrittoio molto simile al nostro, conservato nelle civiche raccolte a Castello Sforzesco, ed è scritto, pubblicato da Enrico Colle. È un tavolo che è datato in quel caso 1804, che a parte alcune piccole differenze, perché cambiano un pochino le bordure, ma ha la stessa struttura costruttiva e lo stesso intarsio del piano. Esiste tra l'altro un altro tavolino analogo, pubblicato in questo caso e restaurato da Giuseppe Beretti, che si differenzia perché ci sono due rosoni sul piano con dei disegni diversi, ma ha la stessa costruzione, identica a quella del tavolino conservato a Castello Sforzesco e di questo che stiamo descrivendo. È un ebanista che lavora su campiture molto ampie, in questo caso come vedete abbiamo un rosone centrale e in realtà una grande distribuzione di legni intarsivari, lavora, siamo nell'ottocento, abbiamo già la presenza del mogano, qui abbiamo un grande fondo in noce d'India, poi in noce, palissandri, intarsivari con aceri e aceri tinti, perché la parte descrittiva dell'intarsio è una parte che va a lavorare molto sul cromatismo. È però per queste caratteristiche molto distinguibile. Anzitutto è un ebanista che si firma di frequente, spesso anche col monogramma AM oppure AMF che sta per AMFECIT e spesso mettendo proprio cesano come provenienza. Ed è distinguibile perché appunto i legni sono spesso gli stessi e le rappresentazioni sono molto ridotte in campi molto semplici. È un ebanista minore, mi viene da dire, fra gli allievi di Maggiolini, non ricchissimo, a parte forse un paio di segreteri, fra cui quello di Palazzo Bianco, però molto puro, lineare e semplice nella sua esposizione degli spazi e delle raffigurazioni. Nella parte di dettaglio è molto bravo anche nel realizzare i disegni e nell'accostare le diverse cromie, le diverse essenze per creare un effetto sia di profondità che di descrizione pittorica. Con questo ebanista chiudiamo la presentazione di oggi e vi attendiamo alla prossima. Ben ritrovati in questo nostro penultimo appuntamento durante il quale vogliamo presentarvi un altro artista, Luigi Mascarone. A me è un artista molto caro per il suo collegamento con la città di Bergamo. Come si sentirà dall'accento anche la Bergamasca è il luogo dal quale provengo, quindi mi fa particolarmente piacere presentarvi questo artista. È un ebanista che possiamo definire anche con l'appellativo di pittore del legno perché la maggior parte della sua produzione a noi nota è costituita da delle tavolette linee intarsiate, delle quali le nostre sono un esempio più che pregevole, ma è un artista che si ricolloca in una fase cronologica leggermente più avanzata rispetto agli altri artisti che abbiamo conosciuto fino ad ora. Infatti la sua produzione a noi nota è databile tra gli anni 30 e gli anni 40 dell'ottocento circa. Balzerà subito all'orecchio almeno lo stesso cognome di Antonio Mascarone che vi abbiamo presentato ieri. Purtroppo lo studio di questi artisti è ancora in fase di lavorazione anche se piace pensare o comunque può essere accolta l'idea che vi fosse tra i due, tra Antonio e Luigi, una relazione di parentela. Probabilmente si può anche avanzare l'ipotesi che Luigi fosse il figlio di Antonio proprio per il collocarsi in una fase cronologica successiva rispetto a quella nella quale Antonio licenzia i suoi immobili. Di Luigi Mascarone si conoscono altre due tavolette linee conservate presso una collezione privata di Karate Brianza che mostrano dei riscontri molto precisi e puntuali con le nostre. Ci sono possibili infatti dei confronti, dei richiami molto forti soprattutto nella parte della cornice con quest'utilizzo, questa attenzione all'avvenatura, all'utilizzo del buade violette utilizzato di testa, quindi con questo forte effetto cromatico, ma anche l'utilizzo di diverse essenze tra di loro accostate in modo anche molto minuzioso per realizzare la filettatura. Queste tavolette di Karate Brianza, così come le nostre, perreccano la firma di questo interpretatore Luigi Mascarone e, così come le nostre, nell'altra parte, dalla parte opposta della firma, viene indicato invece il riferimento, il modello alla quale Mascarone si rifece. Per le tavolette di Karate Brianza si tratta infatti di Francesco Londonio, un incisore, e in queste tavolette Luigi Mascarone presenta una, si concede una maggiore libertà infatti, vengono realizzate in controparte le tavolette intarsiate rispetto alle incisioni e si concede una maggiore licenza anche per quanto riguarda lo sfondo e il paesaggio retrostante. Le nostre tavolette invece come modello di riferimento hanno Raffaello Sanzio Urbino. In realtà non è indicato Raffaello ma Raffaele in un modo un po' insolito con il quale questo importantissimo artista veniva indicato nell'Ottocento e infatti le nostre tavolette sono tratte da dei disegni di Stefano Tofanelli, derivati a loro volta da un'invenzione raffaellesca che purtroppo non ci è pervenuta, che comunque ad oggi non è ancora nota, ebbero questi disegni ovviamente per il maestro che li inventò, Raffaello, da sempre considerato uno dei sommi artisti, ebbero questi questi disegni, un'ampia diffusione grazie alle incisioni che anche qui potete vedere riproposte, e incisioni alle quali probabilmente, anzi senza alcun dubbio, il nostro Luigi si rifece per realizzare i suoi pannelli. Ritornando a quello che dicevamo all'inizio, possiamo definire Luigi proprio pittore del legno per l'utilizzo sapiente delle essenze, quindi l'accostare tra di loro delle diverse essenze e linee, facendo molto attenzione a quella che è la parte cromatica, per realizzare questi disegni anche molto elaborati e molto minuziosi. In alcuni punti il legno viene sostituito all'osso, talvolta tinto anche per dare questo effetto metallico, e anche una grandissima attenzione al lavoro di bulinatura, come se lo stesso Luigi si trasformasse in un incisore del legno. In questa mostra, per chiudere anche un po' su questa figura, abbiamo avuto anche l'opportunità di presentare una nuova scoperta su questo artista, ancora poco noto, ma del quale ci si augura appunto proseguire, su quale ci si augura che possano proseguire gli studi. Mi riferisco, e qui ritorno anche all'apertura della mia presentazione, al collegamento che questo artista ebbe con la città di Bergamo. Infatti è stato recentemente riscoperto un pannello conservato nell'abside, di fronte al coro della chiesa intitolata ai Santi Stefano e Bartolomeo di Bergamo, proprio sotto i piedi della celebre palla martinengo di Lorenzo Lotto, rappresentante la benedizione dei fanciulli, e anche in questo caso si tratta di un pannello firmato che mostra una modalità esecutiva simile ai nostri pannelli e ai quelli della collezione di Carate e Brianza che citavo poco prima, anche in questo caso firmati e in questo caso però il modello di riferimento è quello di un altro pittore, Giuseppe Diotti, anche in questo caso un celebre pittore, in particolar modo riferendosi all'affresco che Diotti realizzò tra il 1833 e il 1834 per il Duomo di Cremona, ma che si può pensare che lo stesso Luigi vide non tanto attraverso l'originale ma grazie ad un disegno al cartone preparatorio che è attualmente conservato presso l'Accademia Carrara di Bergamo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Ben ritrovati tutti e benvenuti all'ultima presentazione che faremo online di questa mostra con questo Secretair che è stata una delle ultime nostre acquisizioni e uno dei mobili che è stato più interessante studiare, del quale non siamo arrivati veramente a definire quale sia l'ebanista. È un mobile particolare per quale motivo? Perché è pubblicato, questo che stiamo presentando è proprio pubblicato in una presentazione che è stata fatta su Giuseppe Maggiolini a Parabiago nel 1965, è stato in mostra come mobile di Giuseppe Maggiolini e un Secretair analogo quindi della stessa bottega con una semplice differenza nelle corniciature è stato presentato nel 1938 a Palazzo Reale a Milano sempre come Giuseppe Maggiolini e pubblicato anche dal Morazzoni. In realtà non si tratta di un mobile di Giuseppe Maggiolini, semplicemente gli studi all'epoca non permettevano di districarsi bene all'interno di queste produzioni. La qualità è senz'altro molto alta, sia nella parte di composizione che nella parte di realizzo e soprattutto di incisione degli intarsi di questo Secretair e quindi ha dato a pensare che potesse trattarsi di Giuseppe Maggiolini. Così senz'altro non è, per una serie di motivi. Il primo che non esiste è corrispondenza vera con i disegni dei fondi della bottega, anche se ci sono in realtà alcune similitudini, ad esempio questo è un elemento che utilizza anche Giuseppe Maggiolini, però in realtà sono elementi che derivano dai disegni di Giocondo Albertogli, che Giocondo Albertogli fa per gli studenti dell'Accademia di Ornato, dell'Accademia di Brera di Milano e che quindi erano diffuse nelle botteghe milanesi. Ma non ci sono dei disegni in realtà puntuali che facciano riferimento alla bottega di Maggiolini, anche se si può supporre che fosse uno degli allievi, vista la qualità tecnica che si nota assolutamente su questo arredo. La particolarità che siamo riusciti a un pochino riscontrare anche sta nel fatto che questo mobile qui ha una serie di altri paralleli, altri esempi di arredi, soprattutto Comoco, Modini e altri secreter, che in realtà sono passati sul mercato, che hanno tutte delle caratteristiche molto simili, come se questo ebanista avesse dei modelli ormai sicuri, certi, di successo e li ripetesse all'interno della propria produzione. Questo ci ha favorito nel ricostruire una bottega uniforme, omogenea e ben definita. Vi dico un po' le caratteristiche che si ripetono. Una delle caratteristiche è quella delle candelabre, se le ritroviamo spesso sia sui comò che su dei comodini e negli altri secreter. Questo motivo, che in realtà è un intarsio dedotto da un bellissimo disegno di Giacondo Albertogli, è un motivo che anche ripropone. Vengono poi, su tutti i mobili, riproposti soprattutto nella fascia sottopiano, queste piccole riserve, che possono essere più grandi all'interno dei cassettoni, dove ci sono delle figure solitamente mitologiche su un fondo di acero verde. È per questo motivo che ci siamo presi la licenza di chiamare questa bottega la bottega dei fondi verdi. Spero che non si arrabbi nessuno storico dell'arte. Ci sembrava evidente che non ci fosse certezza né di attribuire questo mobile a Giuseppe Maggiolini, ma soprattutto diventava difficile anche di attribuirlo agli altri allievi, perché di questa qualità oggi noti avremmo dovuto pensare a Mafezzoli di Cremona, tra l'altro questo è un mobile che proviene da questa città, però la tipologia di intarsio, la modalità è molto diversa. Adesso vi descriverò anche perché. Si avvicina parzialmente alla produzione di Giovan Battista Maroni, che abbiamo visto qualche giorno fa, ma la qualità è molto più alta, e comunque, mentre Giovan Battista Maroni ha una tecnica di intarsio molto vicina a Maggiolini, con l'accostamento di tessere di diverso colore, di diverse essenze, in questo caso, come voi potete vedere, l'intarsio si sviluppa su un intarsio grande di un'unica essenza, e il particolare, il dettaglio, viene dato soprattutto all'incisione. Non c'è, ad esempio, l'utilizzo di quella tecnica di sabbiatura per creare le ombreggiature, che era tipico della bottega di Maggiolini, e che spesso viene utilizzato dai suoi allievi. Ci sono altre vicinanze, queste figure si ritrovano simili, anche se non identiche in alcuni mobili di GBM firmati e datati, però non c'erano abbastanza confronti certi per poter dire che questo ebanista fosse Giovan Battista Maroni. L'altro motivo è che la produzione che abbiamo messo insieme è talmente vasta e omogena. Noi siamo riusciti a costruire una piccola parte, ma la mia carissima amica, Manuela Carbone, che è una studiosa del mobile, soprattutto Lombardo, ha raccolto un corpus di mobili molto vasto, e che permette di capire che si tratta di un'unica produzione certa. Mescolarlo con Giovan Battista Maroni diventa un azzardo e ci sembra poco opportuno. Per questo motivo chiudiamo questa presentazione, questa nostra mostra, con un mobile che non riusciamo ad attribuire. E ci sembrava anche bello, perché riteniamo che uno degli scopi principali di questo lavoro di ricerca sia proprio quello di consegnare agli altri studiosi, agli altri appassionati, agli altri amanti del mobile, un pretesto delle scoperte che creano dei piccoli capisaldi su cui andare avanti nella ricerca per poterla approfondire, smentire e costruire in maniera sempre più precisa. Quindi vi lasciamo con questa speranza, che tanti di voi abbiano questo sogno, questa passione, che possa ancora migliorare e approfondirsi lo studio delle arti ricorative nella nostra Italia. Grazie a tutti e speriamo che vi sia piaciuta molto questa nostra piccola mostra ed esposizione virtuale. Arrivederci e grazie. Grazie a tutti.